Grande Fratello, ecco i primi otto concorrenti ufficiali. Il portale di Davide Maggio ha svelato in anteprima il cast della prossima edizione del GF, condotto da Alfonso Signorini, su canale 5 da Settembre. Clarissa Burt, Clayton Norcross, Enzo Paolo Turchi, Giulia Mannucci e altri VIP sono pronti a entrare nella casa del Grande Fratello. Scopri chi sono i nuovi concorrenti del GF, tra esperti del mondo dello spettacolo e sorprendenti new entry. Non perdere l'inizio della nuova edizione del GF su canale 5. I VIP stanno per riempire la casa più spiata d'Italia.